Due delle mie cose preferite unite insieme, una cappuccino cake Bene, se pensate che Ombretta si troghi la risposta è no, fa molto abuso di caffè Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale Oggi siamo qui perché voglio presentarvi una cake, una torta davvero buona La cappuccino cake È una torta che ha tutti gli ingredienti del cappuccino e che ha anche il sapore di un buon cappuccino Volete vedere come si fa? Andiamo! Ed ecco gli ingredienti per la nostra cappuccino cake 130 g di muesli al cioccolato Non al cacao, al cioccolato con i pezzettini di cioccolato Questo lo vendono alla Lidl, questo arricchito con i pezzi di cioccolato Se non lo trovate prendete il muesli normale e arricchitelo con delle gocce di cioccolato Ne basteranno 100 g Io a questo ne aggiungerò poi 40 nel corso della ricetta Come vedrete, quindi gocce di cioccolato 250 g di mascarpone Una bustina di gelatina in polvere E 40-50 g di latte per stemperare la bustina a freddo Questa potete sostituirla con una confezione di colla di pesce Un cucchiaio di essenza di vanillina E poi circa 60-70 g, quello va a gusto, di zucchero di canna Potete metterne di più o di meno, a seconda del vostro palato Quindi una bella pinta di schiuma al caffè La riconoscete? È quella del video precedente Ed è proprio quella Ancora bella soda, perché questa da così non la schioda nessuno Nell'info box trovate il video quando dico schiuma al caffè Quando metto tra gli ingredienti schiuma al caffè Vi metto il link del video Se no, qui dove c'è l'ecol pallina trovate anche il video È facilissima, c'è solo caffè solubile, acqua e zucchero Cominciamo subito Prendete 120 g di muesli al cioccolato Ma mi raccomando che sia quello che contenga dei pezzettini di cioccolato Io questo è lo muesli bio della Lidl E aggiungiamo altri 20 g, sì 25 g di gocce di cioccolato E metto al microonde per 3 minuti Se non avete il microonde mettete in una pentola sul fuoco Senza acqua, senza niente, così Bene, una volta fatto ammorbidire il tutto Sciogliamo il cioccolato E incorporiamo bene bene muesli e cioccolato insieme Ok, prendiamo una teglia Quella nostra è da 18 cm Quindi tutti gli ingredienti che vi stiamo dando Sono relativi a una teglietta da 18 cm Versiamo il nostro muesli Lo potrebbero fare qualcosa Lo ho detto, attento che è caldo E schiacciamolo bene Bene, a questo punto mettiamo la nostra base in frigo a rapprendere All'interno di una ciotolina mettiamo 250 g di un buon mascarpone Qualche gocciolina di essenza di vaniglia 3 bei cucchiai di zucchero In una tazza di Darth Vader Di Kylo Ren Di Kylo Ren Versiamo una confezione di gelatina Che andiamo a diluire con un pochino di latte Ok, sciolta tutta la nostra polverina In circa 50 g di latte Versiamola dentro assieme al tutto Quindi con le fruste Mischeliamo il tutto Prendiamo la nostra base E siamo già pronti per assemblare la torta Non ci credo All'interno della nostra tortiera Versiamo il latte Se è un cappuccino Quindi versiamo il mascarpone Con lo zucchero e la vaniglia E dopo la farcia al mascarpone La nostra schiuma del cappuccino Benissimo Ma che soda Ma che soda Parola di Pamela Anderson No? Rivelliamo E poi alla fine Una bella spolverizzata di cacao amaro Proprio come il cappuccino che preferiamo Ed ecco qui la nostra tortina appena sfornata 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 dal frigo Adesso spolverizziamola semplicemente con del cacao amaro Come faremmo proprio con un cappuccino Io lo faccio prima di sformarla così i bordi rimangono non sporchi Almeno spero Che bellina Mettiamola su un piatto Dai un piattino bianco Et voilà La nostra torta è pronta per essere assaggiata Sapore cappuccino Ed aspetto meraviglioso Facciamo le foto E poi vi facciamo vedere la fetta Et voilà Guardate che bello Due strati ben distinti Un cappuccino in piatto Vuoi assaggiare? Un cappuccino in piatto assaggiamo E' simile al tiramisù ma è tutta altra cosa E' un cappuccino E' un cappuccino in torta E quindi bene amici Quindi provate questa torta Mi raccomando perché è buonissima E noi ci vediamo di là Che dobbiamo dirvi ancora qualcosa A dopo Bene Se troverete questa torta da Starbucks Sappiatelo Sapetelo Che è nostra L'abbiamo inventata noi Sì L'abbiamo inventata noi Durante un momento in cui Attaccavamo un orologio Siamo scivolati Abbiamo sbattuto la testa E ti è venuta in mente questa torta Va bene Va bene ragazzi E' tardi C'è caldo Andiamo a mare Io sto sudando davanti a voi Come vedete Quindi Provate questa cappuccino cake Vedrete che è facilissima da fare Buonissima da mangiare E soprattutto Poco dispendiosa Tutto sommato Quindi provatela E diteci cosa ne pensate Noi ci ritroviamo sempre qua Sulle vostre tavole Ciao